Tanti anni fa, a me me l'ha raccontato mio padre, perché io ho un'età che non posso salire, però mio padre mi ha raccontato che in 1824, quando poi loro qua le terme erano una villa privata, facevano l'olio, poi dall'olio che è stata scoperta dalle terme e l'acqua, io non portavo l'acqua da Castellammare a Napoli, Napoli e provincia, e così si sono aperte delle terme. Purtroppo all'epoca poi è stata scoperta una metà del terreno, come i documenti che ho io, che dall'entrata fino a 50 metri è stata scoperta dal 1824. L'ex sindaco, non me lo ricordo, ma adesso ce l'ho segnato, però non mi ricordo il sindaco chi era all'epoca. Poi dopo i 50 metri appartiene tutto a Vanagore da Dea, Vanagore giuto da Dea, con i due fratelli, Catello e Vincenzo. Poi ognuno hanno preso del contatto con lo sindaco, che avevano un mensile, e infatti nelle carte ciò scritto che prendeva in lira, 500.000 lire in lira. E così poi andavano, anzi così, poi non lo so che cosa è successo con le terme. E purtroppo adesso ho avuto un colloquio con lo sindaco Pannullo, ho portato dei documenti e ho portato anche la fotografia del nonno, che sta a casa mia e che si chiama Vanagore giuto da Dea, proprietario delle terme. Fuori alle terme ci sta pure un quartiere Vanagore. Lei si sente ancora un po' proprietario delle terme? Mi sembra di provvedere che rimane a casa l'amore per tutti i cittadini.